Cosa sta accadendo a Buckingham Palace tra Kate Middleton e il principe William dopo l'annuncio della guarigione della principessa La notizia della completa guarigione di Kate Middleton dal cancro ha scaldato i cuori di tutta la Gran Bretagna In un periodo in cui le cattive notizie sembrano dominare i titoli, l'annuncio della principessa del Galles ha portato un raggio di speranza e felicità Tuttavia, ciò che ha seguito questo annuncio è stato un gesto ancora più toccante da parte sua e del principe William, dimostrando una volta di più il loro impegno nei confronti delle cause sociali e della comunità Kate, il gesto dopo l'annuncio.Dopo aver affrontato una battaglia personale così impegnativa, molti si sarebbero presi un momento per riposare e riflettere Invece, William e Kate hanno deciso di rivolgere immediatamente la loro attenzione verso coloro che sono in difficoltà La loro decisione di donare una somma significativa a un banco alimentare a sud di Londra rappresenta non solo un sostegno materiale per l'organizzazione ma anche un potente messaggio di solidarietà Il banco alimentare in questione aveva recentemente subito dei furzi che avevano portato alla perdita di circa 3.000 sterline in cibo Questa perdita avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per le famiglie che dipendono dall'aiuto fornito dall'organizzazione Grazie alla generosità dei duchi del Dallas, il banco alimentare non solo è stato in grado di rimpiazzare ciò che era stato rubato ma ha anche ricevuto ulteriori donazioni dal pubblico ispirato dal loro esempio L'impatto dell'azione compiuta da William e Kate va ben oltre il valore materiale della donazione Peter Edwards, amministratore delegato del banco alimentare, ha sottolineato come questo gesto abbia evidenziato la gentilezza e decenza dei reali nel pensare agli altri anche durante i momenti difficili della propria vita La risposta della comunità è stata altrettanto straordinaria, molte persone si sono sentite motivate a contribuire anch'esse, creando una vera e propria catena di solidarietà Questo episodio è solo l'ultimo esempio dell'impegno costante mostrato da William e Kate nei confronti delle cause socialmente rilevanti Nonostante gli impegni ufficiali e le sfide personali, come quella appena superata dalla principessa, i due continuano a dedicarsi attivamente al supporto delle comunità meno fortunate La storia del loro intervento a favore del banco alimentare non solo riporta alla luce la generosità dei duchi ma serve anche da promemoria dell'importanza dell'aiuto reciproco nella società odierna In tempi incerti come quelli attuali, azioni come queste ricordano che gentilezza ed empatia possono fare davvero la differenza nella vita delle persone